In questa registrazione vedremo come si cerca una rivista elettronica. Se si consulta OneSearch da una postazione esterna alla rete di Ateneo, per accedere alle risorse elettroniche è necessario installare la VPN e autenticarsi usando la Unisipass. La rivista elettronica è possibile cercarla attraverso la barra di ricerca semplificata, ma la ricerca migliore è quella che viene fatta utilizzando il menu Cerca rivista elettronica. Posso cercare la rivista elettronica inserendo il titolo o gli SSN, posso cercarla per scorrimento alfabetico. OneSearch in questo modo recupera tutte le risorse disponibili il cui titolo inizia con la lettera D. La cosa migliore è appunto cercare la rivista elettronica inserendo il titolo. Voglio cercare Journal of Internet Commerce. OneSearch mi porta nella lista breve della rivista, in cui ho immediatamente visibile la copertura della rivista. Da 2002 gli ultimi un anno e tre mesi non sono disponibili. Cliccando su Accesso Online Vengo portata nella pagina delle note pubbliche e dei dettagli. Posso cercare la risorsa online cliccando su EBSCO Host Business Search Complete. Se ad esempio io dovessi recuperare un articolo pubblicato nel 2014, il fascicolo 1 del volume 13, seleziono l'anno 2014, seleziono il volume e seleziono il fascicolo. Da questa pagina di EBSCO Host posso scaricare il full text. Grazie per la visione di EBSCO Host.